Beautiful anticipazioni. La forte delusione di Liam. Lunedì, 4 marzo 2024. Steffi ha un duro confronto con Thomas riguardo alla forte sintonia, non solo lavorativa, che si è instaurata tra lui e Hope. Lo stilista puntualizza di volersi concentrare solo su Douglas e sull'imminente rilancio della Hope for the Future. Finn, lì presente, gli rammenta che Hope e Liam sono sposati ed hanno anche una figlia in comune, la piccola Beth. Thomas gli ricorda che anche lui condivide un figlio con la Logan. Hope cerca di sedare i dubbi di Liam, affermando che è stato Douglas a chiedergli di passare più tempo con Thomas e con i suoi genitori insieme. Lui lamenta il fatto di non essere mai invitato agli incontri. Teme che lo stilista abbia qualche oscuro piano in mente. Più tardi, alla presenza di Hope, il giovane Forrester rifiuta un invito a cena da parte della bellissima modella Petra. La giovane è in ansia per la sfilata e Thomas le offre tutto il suo supporto morale. Bill fa una promessa a Liam. Martedì, 5 marzo 2024. Prima della sfilata, Thomas non nasconde di essere in attesa del momento clou. Hope con indosso il modello di punta. Steffi ringrazia Carter e Katie per il duro lavoro che hanno fatto, certa che la sorellastra riuscirà a rilanciare la sua linea. Brooke e Liam cercano di incoraggiare Hope, in forte ansia. Rimasta sola con suo marito, Hope gli chiede massimo supporto. Lui ammette che non smetterà mai di sostenerla. Ma sarà durissima guardarla uscire sul palco al fianco di Thomas ed applaudirli come squadra. Dopo qualche istante, Hope sale in passerella, accogliendo il pubblico con un discorso molto toccante. Poi, dietro le quinte, Thomas le ricorda che deve assolutamente prepararsi. Liam li nota insieme e si mette in ascolto. Hope ringrazia il Forrester per averla aiutata a creare un capolavoro. Lui, abbracciandola forte, crede che non sia solo merito suo, ma di loro due insieme, uniti. Mercoledì, 6 marzo 2024. Douglas è felice di vedere Hope sfilare. Steffi ne approfitta per ricordargli che è l'unione con Thomas che sta dando vita a questo grande capolavoro. Brooke è basita. Katie nota preoccupata all'assenza di Liam. Sulla passerella, gli abiti conquistano acquirenti e giornalisti. Bill e Wyatt discutono di lavoro al giardino, quando sopraggiunge Liam. Bill lo rimprovera per essere arrivato in ritardo, ma quando scopre che Hope sta rilanciando la sua linea proprio in quegli istanti, lo invita a raggiungerla al più presto. Hope cerca suo marito tra la folla. Thomas le rammenta che è lui che odia, ecco perché non è presente. Ridge entra in camerino e sprona Hope a conquistare ogni singola persona del pubblico con l'abito di punta. Thomas cerca di darle carica con parole intrise di grinta e determinazione. Wyatt si unisce a Bill, prega Liam di raggiungere la Forrester Creations prima che sia troppo tardi. Giovedì, 7 marzo 2024. Bill, riflettendo, comprende perfettamente lo stato d'animo di Liam. E lo invita ad esistere. Liam lo ringrazia per il supporto, affermando che non saprebbe fingere davanti a Thomas e, per questo motivo, non si recherà alla Forrester Creations. Ridge annuncia l'uscita del modello di punta della collezione, progettato da Thomas e indossato dalla splendida Hope. Tutti applaudono con entusiasmo alla vista della Logan, avvolta in un magnifico abito color argento. Douglas le sorride. Brooke si commuove. Poi Hope prende il microfono ed inizia a ringraziare tutti, compreso Liam. Thomas si unisce a lei in passerella. Guardandola negli occhi, le sussurra dolcissime parole. Brooke e Katie si scambiano uno sguardo preoccupato. Nel backstage, Ridge, Eric e Zende sono al settimo cielo, orgogliosi dei risultati raggiunti. Wyatt non condivide il pensiero di Bill. Prega Liam di raggiungere l'azienda per scusarsi con Hope. Venerdì, 8 marzo 2024. Brooke rientra allo chalet e chiede a Liam di fornire le spiegazioni sulla sua clamorosa assenza. Lui le racconta di aver visto Thomas abbracciare Hope dietro le quinte. E di non aver percepito alcun dispiacere. A loro si unisce Bill, che lo sprona a fare subito qualcosa per liberare la Logan dal Forrester. Steffi e Finn commentano l'assenza dello Spencer al grande evento. Il dottore crede che sia a causa di Thomas. Ridge spende bellissime parole per Hope. È la sua gentilezza a fare la differenza. Non ha voltato le spalle a Thomas come hanno fatto in tanti. Sente che formano una grande squadra, non solo professionalmente ma anche come genitori. Bill, ancora in compagnia di Brooke, ne approfitta per chiederle di ritornare insieme. Lei ribadisce di amare Ridge. Liam telefona alla moglie che lo avvisa che non tornerà a casa quella sera. Metterà a letto Douglas e festeggerà con Thomas. Sabato, 9 marzo 2024. A Villa Forrester, Thomas spinge Hope a riflettere attentamente sull'assenza di Liam e sul segnale che ha lanciato. Allo chalet, lo Spencer riceve la visita di Wyatt che resta di stucco quando scopre che Hope è rimasta a festeggiare con il Forrester. Sheila, ha il giardino, punzecchia Deacon circa il suo interesse ancora vivo per Brooke. Lui la spiazza organizzandole una sorpresa romantica. Brooke delude ancora una volta le aspettative di Bill, precisando di voler passare la notte con Ridge e non con lui. Quindi si mette in testa di raggiungerlo. Lui, però, le rammenta che ha scelto Taylor. E, notte fonda e Hope, dopo aver messo a letto Douglas, inizia ad elogiare il talento di Thomas. Emozionato, lo stilista ammette di sentirsi diverso, Renato, un padre migliore per suo figlio. Poi la fa accomodare sul divano, avvicinandosi alle sue labbra con l'intento di baciarla. Lei lo ferma, parlandogli di Liam. Grazie a tutti.